Ciao sono Fabio della IDRO, vi voglio presentare le tavole 2010, questa è una delle ultime novità, la tavola molto particolare con dei gradini e con flex molto progressivo. La tavola ha un bel sistema di croce in carbonio per avere i tipi molto più rigidi per avere un bel twist e questa è la tavola diciamo di punta della IDRO, penso che sia. Poi abbiamo la novità assoluto surfetto con flex, smontabile, non so se si vede ma comunque smontabile, per portarlo via. Poi abbiamo anche questo intero, sempre uguale. Poi passiamo alla linea custom, c'è praticamente col design in particolare, studiati apposta che ogni persona può scegliere la propria tavola col proprio colore e col proprio design, vista la novità per il 2010 IDRO.